I consiglieri regionali di Forza Italia, Mauro Febbo e Lorenzo Sospiri, tornano a invocare le dimissioni del Presidente della Regione Abruzzo. D'Alfonso, hanno dichiarato i due rappresentanti del centrodestra nel corso di una conferenza stampa, non ha ancora compreso il forte messaggio arrivato dalle recenti elezioni politiche. Svolga serenamente il suo ruolo da senatore e non pensi di continuare ad amministrare l'ente regione attraverso inutili forzature, poiché, secondo Febbo e Sospiri, si aprirebbero solo contenziosi e ricorsi deleteri per il bene della nostra Regione e per chi sarà chiamato a governarla in futuro. Siamo allarmati di ciò che si sta prospettando all'orizzonte, cioè quello che oggi abbiamo definito il Moia d'Alfonso con tutti i filistei, cioè si stanno predisponendo una serie di azioni che danneggiano, danneggeranno il nuovo governo regionale, il nuovo governo regionale che nascerà con una programmazione già scritta e soprattutto nascerà con dei dirigenti di altra parte politica che hanno degli incarichi prettamente fiduciari e quindi tutto questo scatenerà una serie di azioni di contenziosi che chiaramente bloccheranno quel nuovo governo regionale e questo noi non lo vogliamo e quindi prima che inizi questo contenziosi lo iniziamo prima noi perché chiederemo da subito l'intervento della Corte dei Conti su ciò che si sta facendo e si sta dicendo che gli strumenti contabili che non ci sono, che non vengono ancora approvati nonostante le mille promesse, siano approvati non dalla Giunta ma così come prevede l'articolo 62 dello Statuto devono essere approvati dal Consiglio regionale, lui deve portare, chi governa deve portare quello strumento in Consiglio regionale, non ha la maggioranza e quindi dice che basta la delibera di Giunta, è una falsità enorme che contestiamo e che credo che la Corte dei Conti contesterà, ancora più grave è ciò che si sta facendo sulla programmazione futura, su questo famoso masterplan che sta diventando oggetto quotidiano di conferenze, di firme, di sottoscrizioni, di sceneggiate senza avere un euro in tasca, oggi i comuni, gli enti, le aziende che sottoscrivono quegli atti non hanno i fonti perché non li vengono trasferiti sulle 21 pagine delle convenzioni che noi abbiamo dimostrato, ci sono due pagine destinate alle risorse, non c'è una data, non c'è una scadenza, non si sa come verranno pagate queste opere.